Rogers, Steven. Una possibilità. Piacente, figliolo. Ti salvo la vita. Il generale Patton ha detto che le guerre si combattono con le armi, ma sono vinte dagli uomini. Non sai proprio che vuol dire arrendersi, vero? Ho tutto il giorno libero. Il nostro scopo è creare il più grande esercito della storia. Dovrei venire con voi. So che non mi ritieni all'altezza. Questo non è un vicolo, Steve, è la guerra. Ogni singolo uomo è la base di un esercito. Cinque tentativi in cinque diverse città. Posso offrirti un'occasione. Voi sarete i primi in una nuova specie di super soldati. Perché io? Perché l'uomo debole conosce il valore della forza. Conosce il valore del potere. Non ha fatto male. Era penicillino. Noi vinceremo questa guerra perché abbiamo gli uomini migliori. Ora, signor Stark. E loro condurranno Adolf Hitler ai cancelli dell'inferno. Come ti senti? Più alto. Il tuo compito non sarà semplice. Chi diavolo sei? Il primo di tante. Il vostro nemico non è quello che vi aspettate. Non so se sarò in grado. Per questo sei stato scelto. Che ne pensi? Penso che funzioni.